Il liceo Alfonso Gatto ha programmato per questa primavera una serie di concerti ai quali parteciperanno tutti gli studenti secondo le varie formazioni cameristiche nate all'interno delle classi di musica d'insieme di liceo musicale, fiati, archi, percussioni, pianoforte, chitarra, canto, corale. Ad ogni evento si uniranno gli studenti delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, Gino Rossivairo di Agropoli, Castellabate San Marco, Capaccio Pestum Albanella. Prosegue infatti il progetto ministeriale dell'ufficio scolastico della regione Campania, Orchestra Scuola, Scuola in Orchestra, che prevede la formazione di gruppi musicali fra studenti di ordine di scuole diverse. Dopo il concerto al Teatro De Filippo del 16 dicembre 2021, i vari gruppi ampliati con l'integrazione di ulteriori giovanissimi musicisti daranno vita ad una serie di eventi nei quali renderanno testimonianza ancora una volta di quanto la musica unisca nel segno della bellezza, dell'amore e della solidarietà. Questi gli appuntamenti in programma, martedì 12 aprile alle ore 18 e 30, il primo appuntamento con il concerto degli ensemble di flauto, di fisarmonica, di percussioni presso l'aula magna della sede di staccata di via Pio Decimo di Agropoli. Mercoledì invece 13 aprile alle ore 18 e 30, il secondo concerto con gli ensemble degli ottoni e dei sassofoni presso l'auditorium della sede centrale via fiamme gialle di Agropoli.